Renzo riuscirà ad evitare la trappola ordita da Don Abbondio? Don Abbondio non era nato con un cuore di leone, ma probabilmente era molto diebolico. Cerca di ingannare Renzo in che modo? Facendogli credere che era necessario avere qualche giorno in più per alcune pratiche per il suo matrimonio. Questa è una strategia usata da Don Abbondio per spostare di qualche giorno bastano pochi giorni per far sì che il matrimonio slittasse di alcuni mesi, perché fra quattro giorni scattava il tempo dell'Avvento, tempo in cui anticamente non ci si poteva sposare. Il 12 novembre 1628 era la prima giornata dell'Avvento. Bastava spostare il matrimonio di quattro giorni perché il matrimonio era programmato per l'8 novembre 1628. Don Abbondio è di diabolico. Cercherà di ingannare Renzo in tutti i modi per far slittare il matrimonio di alcuni giorni, facendogli credere che si potrà sposare a breve, ma in realtà il suo piano è quello di slittare il matrimonio di alcuni mesi per avere più tempo. Cadrà nella trappola Renzo? Lo vedremo nei prossimi video. Ciao al prossimo video! Ciao! 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 Ciao!